Tutte le parti del sé vogliono essere amate o dovrebbero essere amate. Per parti del sé intendo la forza, l'amore, la grazia, l'ironia, la creatività, l'arte, il rilassamento. Cioè tante parti del sé che una persona può condannare o dire che non vanno bene, sono fondamentalmente delle sciocchezze. Delle sciocchezze, cioè ogni parte è importante, ogni parte, chiaro? Se una persona condanna qualche parte del sé, fondamentalmente non solo si crea dei problemi, ma crea problemi con le persone che hanno in sé quella parte del sé, che poi è un gioco di parole ma non era voluto, prevalente, cioè una persona seria, infatti la vedi a un teatro e così. Magari è bravissima, diligente, è una qualità la serietà da un certo punto di vista a certe volte, ma in un teatro non lo è affatto. In un teatro sei lo sfigato perché tu stai giudicando quello che sta accadendo. Quindi ama se gli altri non lo fanno, è un problema loro, cioè se tu lo stai facendo e loro no, è loro che si stanno mettendo, come dire, il bastone tra le loro stesse ruote, c'è anche loro dentro come frutto del sistema solare, frutto dell'universo, hanno le parti interne che hai tu, hanno l'ironia, hanno la forza, hanno lo sport, hanno la creatività, hanno l'innocenza, hanno il rilassamento, hanno la parte femminile, allora la parte femminile è molto condannata ancora oggi da molte persone, no? Che è la parte di cura, che è la parte più delicata, che c'è specialmente dagli uomini. Anche gli uomini ce l'hanno, se la condanna e non l'accettano in se stessi o negli altri, si stanno facendo dei casini da se stessi, se poi non dei casini, hanno tolto da una Ferrari una ruota, poi gli tolgono lo specchietto, poi gli tolgono eccetera, e loro sono la manifestazione di una Ferrari, meno una gomma, il turbo, la marmitta, la centralina e che so io, lo stemma, cioè tu dimmi che cosa rimane, il progetto originale, fantastico, giudichi qualcosa, quindi lo togli, lo metti nella mente inconscia, cosa rimane? Non più un'auto, una mezza auto, seppure.